Ma ha visto questo tizio due volte oggi? Oh, mi scusi. Due volte in un giorno deve essere un segno, no? Ho dimenticato di dirtelo. Domani pranziamo da mia madre. Andrà tutto bene, te lo prometto. Vuoi sposarmi? Intendo salvare mio figlio. Mamma, Charlie e io pensiamo che dovresti venire da noi per un po'. Interrompo qualcosa. Credevo fosse un deodorante per la casa. Per il ciclo Batti Vecchi d'Amore, Quel mostro di suocera. Mercoledì in prima serata, sulla 5.